Matteo Tessarolo è responsabile marketing e comunicazione delle residenze Anni Azzurri che hanno 12 strutture in Piemonte più una in apertura a breve, però è un gruppo molto ampio, non solo in regione ma fuori in tutta Italia. Assolutamente sì, la residenza Anni Azzurri è una realtà che opera su 8 regioni prevalentemente nel centro nord, 12 strutture come si diceva in Piemonte, altre tante in Lombardia, siamo presenti in Liguria, Toscana, Emilia, Veneto e come si diceva stiamo per aprire fine 2014 un'ulteriore residenza RSA all'interno del perimetro di Torino nella zona delle Ani. Prevalentemente ci occupiamo di ospiti anziani, siamo delle RSA accreditate al Sistema Sanitario Nazionale ma nello specifico abbiamo sviluppato nuclei specializzati che si occupano di altre tipologie di patologie per cui sclerosi multiple, Parkinson, stati vegetativi e minima coscienza. Oggi siamo qui a Torino per parlare di questa situazione legata agli stati vegetativi, delle problematiche che investono sia i nostri ospiti che le famiglie che accompagnano e vivono questo disagio. Ecco queste due strutture in particolari sono possiamo dire un po' il fiore all'occhiello anche della vostra offerta sanitaria perché per gestire persone che soffrano, sono in una condizione di stato vegetativo e di minima coscienza bisogna avere una struttura particolarmente adatta a rispondere a tutte queste esigenze così particolari dei malati e delle famiglie. Assolutamente, San Tenevolpiano oltre a doversi occupare dei malati come si diceva devono occuparsi anche della famiglia e di tutto l'entourage che accompagna il malato. Abbiamo quindi degli specialisti, dei professionisti che toccano sì l'ambito sanitario, quindi medici, fisioterapisti, infermieri, ma abbiamo poi anche gli psicologi, abbiamo i logopedisti, abbiamo tutte quelle professionalità che riescono a accompagnare in questo lungo viaggio e me, perché non parliamo comunque di viaggi brevi, il nostro ospite e il familiare con terapie, con situazioni occupazionali, con situazioni comunque fisioterapiche che possono dare una risposta all'esigenza sempre più dettagliata. Poi mentre parliamo vediamo che sono arrivati dei cami che rappresentano una delle terapie che si svolgono nelle vostre residenze, che è la pet therapy, importantissima e che ha degli ottimi effetti sui malati. Assolutamente, la pet therapy è stata inserita qualche anno fa all'interno del circuito di Agnazzurri, inizialmente per gli anziani e per le RSA. Oggi invece abbiamo voluto anche esplorare questa situazione all'interno dei nuclei dedicati agli stati vegetativi, dove ovviamente le persone sono stimolate, ma non riescono a rispondere in maniera eclatante, seppur ci sono dei segnali e dobbiamo dire che questa esperienza che ora andremo a raccontare durante il convegno è stata clamorosa, sia per i risultati che anche per il sostegno psicologico ed emotivo che hanno potuto dare ai familiari, ma anche agli stessi operatori che diciamo che con grande sforzo emotivo si occupano di queste persone, quindi portano un sorriso sul volto di tutti. Regine Gilven è il direttore sanitario della Residenza Agnazzurri di Santena, una delle due strutture del gruppo Agnazzurri abilitato alla cura, nello specifico, dello stato neurovegetativo. Quali sono le tecniche che voi adoperate, quali sono le caratteristiche all'interno della struttura di Santena? La cura contiene un nucleo accreditato per 20 posti letto che è adeguato alla normativa vigente nella regione Piemonte e è una struttura residenziale, quindi è una casa che accoglie le persone nella fase degli esiti, quindi in stabilità clinica e al compimento del processo riabilitativo per quanto questo possa aver avuto un risultato più o meno favorevole. Quindi noi ci rivolgiamo alla persona per la cura del corpo, per la cura completa della persona con tutte le sue necessità. Questi sono gravissimi disabili che non sono in grado di svolgere da soli alcuna funzione e quindi i nostri operatori svolgono tutta quella che è la cura della persona per l'igiene, l'alimentazione che è supportata in gran parte da tecniche, perché è un'alimentazione di solito con sonde enterali o qualche volta anche per via venosa. La struttura è in grado di svolgere tutto questo genere di funzioni, ma anche di dare assistenza alle persone che sono spesso portatrici di una tracheostomia, quindi di una cannula tracheale, di necessità di ossigeno, in qualche caso necessità di ventilazione. C'è un supporto fisioterapico che non ha funzioni di svolgere un trattamento riabilitativo, bensì un'attività di mantenimento e di valutazione continua, perché nessuno viene abbandonato e cristallizzato nella condizione in cui entra in struttura, ma viene monitorato costantemente perché alle volte ci sono ancora dei miglioramenti funzionali nel tempo, la possibilità di rientrare nel circuito riabilitativo e la possibilità, in qualche caso, ci sono stati anche, ne parlerà poi il dottor Di Tanti, nella relazione del pomeriggio, anche dei risvegli tardivi che vanno colti e monitorati e quindi sostenuti poi per una ripresa funzionale. È arrivato però nella vostra struttura un progetto importante che è NEMUS, grazie all'aiuto della Fondazione Specchio dei Tempi e soprattutto dell'interessamento della moglie di Alberto Musì. Certo, noi abbiamo accolto nella nostra struttura, abbiamo ospitato Alberto Musì per gli ultimi mesi della sua vita, abbiamo conosciuto la signora Angelica, che è una persona che ci è rimasta nel cuore, che rispettiamo grandemente e siamo diventati partner di un progetto che proprio prevede l'utilizzo anche in una struttura residenziale di un apparecchio tecnologico appartenente alla Città della Salute, che è un monitor neurofisiologico poliparametrico. Poi vi spiegheremo nel pomeriggio che cos'è. È un apparecchio che serve comunque per monitorare le funzioni cerebrali delle persone con disturbi di coscienza e che verrà utilizzato nella fase degli esiti per gli ospiti di Santena, in modo da poter seguire, studiare le loro funzioni in rapporto a degli stimoli che possono venire somministrati e da seguire nel tempo quella che è l'evoluzione del quadro neurologico. Quindi siamo onorati di essere partner di questo progetto, che ci vede collaborare con la Città della Salute, con la clinica neurologica, con i neurorienimatori. È veramente una cosa bella, buona, che Alberto Musi ha fatto, la sua famiglia ha fatto, anche dopo averci lasciati. Il dottore Antonio De Tanti è il direttore sanitario del Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, in provincia di Parma, ed è uno dei massimi esperti della gestione dei pazienti in stato vegetativo e minima coscienza. Dottore, cosa vuol dire avere a che fare con pazienti che presentano questa condizione, che sono in questa condizione? È un tipo di attività che obbliga, è uno dei campi più affascinanti, devo dire, della medicina ed è un lavoro che mi piace enormemente, perché obbliga il medico ad avere una visione assolutamente globale sulla persona che ha subito questa malattia e sul suo nucleo familiare. Cioè non ci possiamo occupare sul singolo organo, sulla singola funzione, ma dobbiamo avere un'attività assolutamente a 360 gradi e dobbiamo lavorare in un team di professionisti, ognuno con la propria competenza, per dare risposte a questi pazienti. E questa è la prima cosa importante. La seconda è che si tratta di percorsi di cura assolutamente lunghi e complessi, che richiedono una filiera di cura non lasciata al caso, ma possibilmente ben organizzata. E quindi occorre che, e questo in alcune regioni avviene in misura maggiore, in altre un pochino meno, che ci siano dei modelli che mettono in linea i reparti per acuti, le terapie intensive, le neurochirurgie, e poi subito a valle i reparti di riabilitazione intensiva e successivamente una serie di strutture in grado, qualora la famiglia non sia in grado di riaccogliere nel proprio interno il proprio congiunto, di dare un'assistenza adeguata a lungo termine, oppure di assistere a domicilio con un team territoriale, queste persone. Quindi, come vede, non è un atto singolo, non è il chirurgo che fa l'intervento, ma è un processo di cura complesso. Ci sono dei risvegli, dottore? Sono minime percentuali oppure può accadere? Bisogna avere speranza oppure pensare a curare il malato durante la sua condizione nel miglior modo possibile? Le due cose coincidono. Sicuramente la condizione necessaria è curare la persona. La speranza deve essere assolutamente mantenuta. A noi sanitari l'obbligo di essere un po' gli avvocati del diavolo, di ricordare che le cose non possono andare dove ci piacerebbe che andassero, che certi recuperi potrebbero non avvenire, ma bisogna mantenere una costante tensione all'esplorazione dello stato di coscienza della persona e lavorare perché questo si incrementi, perché ci sono dei recuperi di coscienza tardivi. Io ho sempre pudore a usare il termine risvegli perché accende la fantasia, ma purtroppo i nostri pazienti non dormano, è ben alta la condizione. Detto questo, abbiamo ormai una serie di casi importanti di recupero tardivo e quindi dobbiamo attrezzarci per tenere i nostri pazienti nelle migliori condizioni possibili perché questi recuperi tardivi possono accadere. Il caso che presenterò oggi è un po' il capo di questi risvegli tardivi, di recuperi tardivi di coscienza, una ragazza torinese che ha recuperato coscienza a distanza di sette anni dall'inizio della sua malattia e l'ha fatto in maniera molto repentina, quindi che non lascia dubbi e a distanza di due anni abbiamo iniziato un percorso di riabilitazione intensiva che sta dando dei risultati clamorosi. Basta un caso del genere per mantenere accesa la speranza per tutti, ci obbliga a ricordare che si tratti di un caso eccezionale, ma ci pone degli interrogativi etici estremamente pesanti. Roberto Tuninetti è il coordinatore regionale per il Piemonte del gruppo delle residenze a Niazzurri che sono 12 in Piemonte più una in apertura breve e ogni struttura è specializzata, possiamo dire, in un tipo di cura. Com'è la dislocazione sul territorio? Le nostre strutture, le nostre 12 residenze attualmente operative sul territorio piemontese sono presenti dalla provincia di Cuneo alla provincia di Novara, ogni residenza ha una sua caratteristica che rispecchia quelle che sono ovviamente le caratteristiche del territorio in cui siamo sediati, offrono risposte di carattere assistenziale sanitario differenziate, abbiamo detto Sant'Ena e Volpiano essere strutture che offrono servizi a persone in stato vegetativo, abbiamo residenze come quella di Marene che offre ospitalità per soggetti affetti da malattia di Alzheimer, anche quella di Carmagnola può offrire questo tipo di caratteristiche, ovviamente in un percorso che vede riconoscere i bisogni degli ospiti come priorità e la relazione con le famiglie deve essere al centro di quello che è il percorso di confronto tra i nostri operatori, i nostri caregiver e il bisogno dell'ospite. La famiglia per noi è una risorsa, rappresenta per noi la fonte di informazione primaria nel momento dell'ingresso.